bella ragazzi guardate siamo tornati in un nuovo video oggi come vedete dalla qualità la telecamera è diversa anche la location e iniziamo ad accendere un po più di luce perché oggi video nuovo che non vi ho mai mostrato guardate che sfondo con lo sfondo oro e la luce si vede bene così ok vi volevo far vedere questo scatolino che ho costruito io che sarebbero dei piccoli minnow adesso andiamo aprirlo e vi farò vedere i primi minnow che ho costruito ok abbiamo riposizionato il tutto allora questi è il mio scatolino chiuso con un elastico è fatta un'apertura costruita da me molto diversa questo è lo scatolino creato da me e lì dentro ci sono i miei primi minnow allora il primo minnow che mi sono auto costruito è questo qui che ha la forma di una scatolina o una gambusia vedete ovviamente il dorso nero gli occhi gialli qualche puntino rosso qualche riga e qualche puntino rosso di sangue vedete gli occhi gialli e poi ovviamente dentro il ferro sotto un po più chiaro per attirare l'attenzione dei pesci e questo è il primo rapolo vediamo se mette a fuoco proprio bene ecco qua poi cambiamo artificiale prendiamo andiamo in ordine da quelli che ho costruito prendiamo il secondo questo lo lasciamo da parte vabbè iniziamo a mettere già nello scatolino così dopo non ci confondiamo il secondo no il secondo è questo qua un po' bizzarro è questo qua questo vi voglio far vedere un'inquadratura perché non sapete con che cosa l'ho costruito guardate che minnow fatto con indovinate un pezzo di matita nell'inserimento dove c'è la mina ho messo il ferro e questo è il risultato di quello che è venuto fuori incredibile e mettiamo da parte pure questo minnow potemi sapere poi nei commenti qual è quello che vi è piaciuto di più anche se un'idea ce l'ho già il terzo è questo qui piccolissimo questo vorrei riuscire a farvelo vedere mettendolo bene a fuoco perché è davvero uno dei più belli allora eccolo qua è piccolissimo praticamente sopra no scusate che dovete fare la sopra è grigio perché non mette a fuoco ok sopra è grigio e questi occhi piccolissimi anche se sproporzionati ovviamente al pesciolino questi qua neri delle righe rosse che poi quando ho messo la rifinitura trasparente scendono e formano un po' di sangue e poi vabbè il colore giallo e poi queste righette che assomigliano a dei morsi il quarto che è anche uno dei più belli che ho iniziato a fare è questo qua verde bellissimo questo vedete questi due occhi bianchi contornati neri col puntino e ovviamente dentro sempre il ferro per adesso l'unico che ha dato risultati è questo qui somigliante alla gambusia o alla scardolina come decidite voi e comunque è l'unico che ho usato quindi comunque vanno benissimo per i persici sole o black bus che stanno vicino a riva piccolissimi poi andiamo sempre in ordine è una sorpresa questo qui questo qui è un minnow tutto rosso sotto argentato con un filo di due piombini sopra e lo spazio per la girella che deve avere un bello stacco almeno di 5 cm e dietro non ci metterò le ancorine ma ci ho messo questa e diciamo una mosca con un pallino affondante che praticamente avete esempio quei cucchiaini che servono per andare a lucci che hanno il rosso dietro questa è il rosso e le piuma nere e quando lui passa fa così lo alza sempre di più finché attaccano dietro e rimangono attaccati guardate tutto il pesciolino che di per sé è molto bello e con queste piume secondo me sarà quello che darà più risultati mettiamo a posto anche questo fatemi sapere ovviamente se volete la costruzione di uno poi il più bello di tutti fatto è questo l'ultimo fatto l'ho fatto stasera è decisamente il più bello guardate gli occhi questi occhi gialli che andrebbero fatti tutti così i pesciolini le righine nere che vanno fatte da tutte e due le parti e io l'ho fatta da tutte e due le parti anche di qua l'occhio bellissimo le righine e sopra nero brillantinato di tanti brillantini piccoli qualche più grosso che sarebbero scaglie staccate e sotto ovviamente bianco questo a parer mio è il più bello guardate che occhi che dorso l'altra parte l'altra parte guardate con la bomboletta rossa sono andato a fare queste macchioline rosse che riportano il sangue bellissimo il più bello che ho e l'ultimo che ho appena finito di fare è questo qui tutto argenteo anche questo dietro piuma stavolta arancione o arancione sul rosa che poi io ho macchiato un po' di nero la codina per sembrare tagliata e queste qui le piumette anche questo il rosa è il più attrattivo per i pesci bene ragazzi questo video si conclude qui se vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al mio canale e iscrivetevi anche ad alpha game se riesco inizio a portare un video al giorno di pesca minnow ovviamente costruzioni quando vado a pescare poi porto anche più cose il bonus di questo video è questo pesciolino qua della feature pitch lab che costruzioni e scarti ficelli guardate che pesce di gomma guardate che bello ragazzi questo video si conclude qui vi mando un abbraccio ricordatevi di iscrivervi e a domani con un prossimo video l'ultima cosa sabato ci sarà sabato domenica uscirà il mio video se vado a pesca in montagna in alta montagna che è l'ultimo giorno che andrò a pesca di trote perché poi va chiusa fino a febbraio e vediamo di pigliare qualche big e fare qualche bella cattura al tocco col verme al prossimo video bella bella